Sono stato a una fiera dove si possono prendere scarpe, vestiti e accessori al chilo. Ciao, sono Daniele per gli amici Subri e voglio parlarvi di Vino Chilo, una fiera dove potete comprare del vintage al chilo. Sì, proprio come essere al supermercato e comprare frutta e verdura. Prima però di raccontarvi di questa esperienza, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Beh, piccola premessa doverosa innanzitutto, non è un contenuto sponsorizzato. Questo ho deciso di farlo io personalmente per parlarvi di questa realtà perché secondo me è molto bella e si possono fare affari davvero interessanti. E visto che spesso vi parlo di vintage, vestiti, soprattutto riguardo, beh sì, lo sappiamo tutti, vintage, secondo me questa può essere un'ottima occasione anche per comprare qualcosa da rivendere poi su alcune piattaforme, ma iniziamo a capire che cos'è e che cosa fa questa realtà. Come potete vedere sul loro sito che vi lascio in descrizione, questa fiera non c'è soltanto in Italia ma in tantissime altre parti d'Europa come Germania, Svizzera, Belgio, Austria e anche Paesi Bassi. Tramite il link che vi ho lasciato in descrizione potrete vedere in quali città si svolge la fiera, così potrete capire se ce n'è una vicino alla vostra città e soprattutto potrete prendere il biglietto per accedere alla fiera e avere qualche info in più. Come potete vedere infatti ad ogni slot corrisponde una determinata città con le date nelle quali poter partecipare alla fiera, soprattutto sarà presente anche la possibilità di prenotare un posto per l'evento un determinato giorno a una determinata ora. Non vi preoccupate perché dopo vi spiego come prenotare la visita. Nel footer del sito, tra le FAQ, ce ne sono alcune da leggere con attenzione prima di partecipare all'evento, come quella che riguarda il pagamento dei vestiti che dovrà essere rigorosamente con carta di debito, credito o ricaricabile. Io ho visto la pubblicità di Vino Chilo su Facebook e ho pensato di partecipare all'evento che si sarebbe poi tenuto a Torino tra il 26 e il 29 gennaio, ma poi con mia grande sorpresa ho scoperto che tra il 20 e il 22 gennaio c'era disponibile anche a Cuneo, la mia città, quindi non mi sono fatto scappare l'occasione e ho prenotato subito il biglietto. Purtroppo non sapevo bene come funzionava, quindi non ho registrato subito come si fa a prenotare il biglietto, ma va bene lo stesso. Ve lo faccio vedere su una delle fiere disponibili in questo periodo, così almeno avete un'idea di come si fa la prenotazione. Quando troverete l'evento di vostro interesse, dovrete cliccare su Book a Ticket e si aprirà la pagina dedicata a quell'evento specifico, in quella città specifica, e potrete scegliere il giorno e l'ora disponibile. Una volta scelto il giorno e l'ora ci saranno due possibilità, ovvero quella di prenotare l'entrata gratuita, oppure quello di pagare il biglietto che costerà 3 euro. Ovviamente non ci sarà nessun obbligo di acquistare il biglietto online, potrete anche semplicemente recarvi sul posto ed entrare all'evento pagando un ticket che costerà qualcosa in più rispetto ai 3 euro che costa online. Però questo ovviamente potrebbe essere anche controproducente se vorrete fare una visita, perché se l'affluenza è proprio tanta, potrebbero non fare entrare più di un tot di persone. Quindi quelle che hanno prenotato entrano, e le altre purtroppo non possono entrare o devono aspettare. Quindi vi consiglio di prenotarlo online, soprattutto perché appunto c'è la possibilità, spulciando tra le date e le ore disponibile, di prendere quello gratuito, quindi non pagare assolutamente niente. Io ho trovato uno slot disponibile gratuito domenica 22 gennaio alle 13 e l'ho preso immediatamente, così non mi sono fatto lasciare sfuggire questa occasione. Ovviamente i posti gratuiti vanno a ruba in men che non si dica, quindi dovete vedere per tempo l'evento e prenotare il prima possibile. Subito dopo aver fatto l'ordine, mi è arrivata l'email di conferma con il biglietto che non è necessario stampare, basta anche solo portarlo all'ingresso, farlo vedere agli addetti che lo scansioneranno con la macchinetta per il QR code. Attenzione però all'ora di prenotazione, perché se avete prenotato per le 13 e poi vi presentate alle 19 potrebbe esserci qualche problema nel farvi entrare. Però ciò non vuol dire che vi dovrete presentare alle 13 e fare tutto di corsa. Infatti c'è tutto il tempo per vedere i vestiti che vi piacciono di più, provarli nei camerini, magari fare due parole con qualche appassionato di vintage. Assolutamente, una volta entrati non c'è nessuno che vi mette fretta. Io ho fatto anche qualche ripresa, ho chiesto prima l'autorizzazione ai ragazzi che mi hanno convalidato il biglietto, anche se ho notato la fiera di Cune essere un po' piccolina, forse era proprio la prima edizione rispetto alle altre. Ho visto delle foto spettacolari in Italia, ma soprattutto all'estero. All'ingresso c'è subito la possibilità di prendere una borsa, utile per inserirvi all'interno tutti i vestiti che vorrete comprare, ma non solo, perché la potrete anche portare a casa con qualcosa in più. Non mi ricordo quant'è che costa la borsa, ma con una piccola aggiunta potrete anche portarvi la borsa di vino chilo a casa. Appena entrato nell'esposizione sono rimasto affascinato dai tantissimi appendi abiti pieni di vestiti, oltretutto divisi bene, perché c'era proprio quello dedicato ai jeans, quello alle giacche, alle pellicce e alle t-shirt. Erano veramente divisi bene, soprattutto con tante cose di qualità e interessanti. Sono rimasto molto colpito anche dalla zona al fondo del capannone, nella quale c'erano in vendita un sacco di oggetti fantastici vintage come vinili e libri, e anche giocattoli. Al centro poi c'era una console da DJ che sparava musica veramente fantastica, ed è proprio per quello che non ho potuto fare stile vlog, perché altrimenti con la musica poi YouTube mi avrebbe dato un copyright strike, e quindi ve ne parlo direttamente dallo studio. Oltre ai vestiti c'era anche una zona piena di borse e cinture, con a fianco una dedicata alle scarpe, con alcuni stivali in pelle made in USA. Ovviamente c'era anche la zona dedicata alla prova degli abiti, con tanti camerini messi a disposizione e specchi sia dentro che fuori. Poi all'uscita c'era una sorta di bilancia con una cassetta sopra già impostata per la tara, dove ci si potevano mettere all'interno i vestiti, con o senza borsa di vino chilo, per poi decidere eventualmente quali scartare e quali tenere, perché effettivamente si poteva vedere prima qual era il prezzo del vestiario, ovviamente per rendersi conto di quanto sarebbe andato a costare il bottino. E quindi parliamo di prezzi. Per quanto riguarda Curio, il costo dei vestiti era diviso a giornate, nel senso il venerdì avevano un costo di 50 euro al chilo, il sabato 40 euro al chilo, domenica quando sono andato io 30 euro al chilo. Questo perché hanno deciso di dividere il costo tra i tre giorni e voi potrete pensare, beh, conviene andare di domenica, così almeno si spende di meno. Certamente, però ovviamente i pezzi più belli il venerdì potevano essere già stati presi, quindi è un po' un gioco a vedere conviene andare subito oppure dopo e spendere meno. Il prezzo però non è uguale per tutte le fiere, lo potete notare sul sito al momento della prenotazione del biglietto. Infatti entrando nella sezione dedicate alla fiera ci sarà anche la fascia di prezzo alla quale verranno venduti i vestiti usati. Attenzione però perché c'è anche la possibilità di risparmiare, infatti all'entrata ho notato un totem sul quale c'era scritto che si poteva ottenere fino al 20% di sconto ed ho anche chiesto a un addetto come funzionasse. Praticamente potete portare i vostri vestiti usati, darli in cambio e ovviamente in base a quanti chili di vestiti date ci sarà una percentuale di sconto. fantastico. All'uscita dalla fiera ci sarà sempre qualcuno pronto a pesare nuovamente i vestiti selezionati facendo un rapido conto ma ovviamente la domanda che vi potreste far tutti a questo punto è conviene o non conviene comprare da vino chilo? Secondo me dipende e dipende da quello che voi volete farci con i vestiti perché se volete un pezzo che magari mettete in alcune occasioni particolari o anche tutti i giorni beh in questo caso troverete dei pezzi più unici che rari perché questi vestiti che vino chilo vende arrivano da tutta Europa se invece ne vorrete fare un discorso di rivendita qui cambia tutto in base anche alla vostra capacità di analizzare i vestiti vintage capire qual è il loro valore e fare le combinazioni giuste per pagare il meno possibile se ad esempio avete 2 chili e 800 grammi aggiungete una magliettina per arrivare giusti a 4 chili o magari togliete un pezzo ne mettete un altro dal valore maggiore tutto ciò perché dovrete quanto pagato al chilo diviso i vestiti e capire quanto vi sarà costato il singolo vestito e di conseguenza cercare di rivenderlo su qualsivoglia piattaforma questo però è un discorso da fare con molta attenzione scegliendo solo i capi quelli ben tenuti ovviamente ce n'era anche qualcuno con qualche strappo o qualche difetto e poi vedere quelli che si possono rivendere oppure no io spero che questo video vi sia piaciuto abbiate capito come funziona questa fiera spero di andare a qualche altra fiera diciamo in città un po' più grosse in Italia o magari anche all'estero e di fare perché no qualche acquisto interessante qualsiasi dubbio o domanda beh lasciatemi un commento